Ciao amiche e amici, dalla vostra... Momento, non mi sono proprio ben organizzata. Eccoci qui. Ingrassata, che non è vero, importante, irrascibile, imponente. E fermiamoci qui. Ce ne sono ancora molti, poi cambieremo magari vocale. Allora, oggi invece, il video di oggi, oggi invece il video di oggi, è un videotag che ho trovato sul canale di Melania Costantino. E, scusate, ma così? No, Paola, così non si può, non si può, non si può. Così, sì, così va bene. Perché ero troppo scomoda. Il rossettino che ho su è il numero 02 Sensuality di Mesauda, della linea One Love, che è una linea di un paio di anni fa, forse anche tre, però regge bene agli insulti del tempo. Il tag è le puntini puntini, e ci vuole, bisogna metterci un numero, che dovrebbe essere quello dell'età, cose belle e brutte che ho imparato dalla vita. Ora, però, io avendo 67 anni a giugno 68, sinceramente, fare 67 cose veniva un video mortifero. Se lo fa una signora di 80 anni, deve farlo a puntate. Anche quella era un'idea. Però io ho pensato di fare così. La maggior parte degli anni li ho messi proprio uno per uno. E alcune annualità le ho un pochino accorpate, senza esagerare. Ecco, magari le ho accorpate due anni insieme, non vi credete chissà chi. A parte un periodo di tre, forse che ho accorpato tre anni, piuttosto che, sì, anche cinque anni in un caso. Però, spero che vi possa interessare anche con questo limite. E alla fine, insomma, vengono 45 cose, che poche non sono. Io, come saprete, ho, come vi ho detto, l'età che ho, quindi sono nata, se fate due conti, da seconda elementare, saprete che sono nata il 1954, 24 giugno, se poi vi vorrete fare gli auguri. Boh, boh. E per ogni anno o gruppetto di anni vi dico che cosa mi ha insegnato la vita. L'ho fatto molto di getto e ho preso degli appunti per ricordarmi, ma li ho scritti così, veloce, senza, come potete vedere, neanche correzioni. Allora, 1954, la vita mi ha insegnato che se si nasce quinta di cinque figli, per te la vita non sarà facilissima. Una famiglia di brave persone, ma con una certa scarsità di rispetto reciproco. Non di amore, necessariamente, ma di rispetto, sì. 1955, qualcuno che ti ama incondizionatamente, però lo puoi sempre trovare. Non andrò a fondo nelle cose, cercherò di non nominare persone specifiche. Parliamo di concetti, di cose che la vita ti insegna. 1956, finché non sarai autonoma, adesso hai due anni, quindi è molto presto, la tua vita sarà vagabonda, non avrai punti di riferimento stabili di tipo fisico, non affettivo. 1957, se non trovi nessuno che ti rassicura, a volte l'angoscia ti domina. 1958, il mio papà è importante, il rapporto con lui è difficile, ma è una persona molto solida, che non ci molla mai. Era così mio papà, persona molto solida, lui era il re della foresta, e quando parlava meglio stare zitti, meglio tacere, mai rispondere, men che meno in maniera poco educata, però solido, punto di riferimento che non è mai mancato, anche quando i miei genitori per un periodo non hanno vissuto assieme. E siamo al 58, alle soglie del boom economico, siamo nel dopoguerra, eh. 1959, mia madre a volte mi chiede delle cose che io non posso darle, è lei l'adulta, io sono solo una bambina, e dipendo a volte totalmente da lei nel bene e nel male. 1960, la scuola è un posto di meraviglie. Inizio il mio percorso scolastico, amo la mia maestra che si chiamava Maria, purtroppo lei ormai non c'è più da tanti anni, era giovane quando era la mia maestra, ed era una persona di una generosità meravigliosa. e abitavamo a Napoli, dove io sono nata, come sapete, abitavamo in una bella casa piena di sole, abbiamo vissuto in tante case sempre piene di sole, sempre più che dignitose, ma la scuola era il mio rifugio, il posto dove io brillavo come una stella. 1961, a volte vorrei un po' di silenzio, la mia è una famiglia chiassosa, litigiosa, e a volte il silenzio è meraviglioso. 1962, con una delle mie zie sono felice, la zia che mi ha amato di più, la zia che per me stravedeva, che mi ha amato finché ha vissuto in maniera incondizionata, senza se, senza ma, senza sì ti voglio bene però, proprio il però non esisteva. 1963, i grossi cambiamenti, come un cambio di casa radicale, non da un quartiere all'altro, ma da una città ad un'altra, città molto lontana, possono causare degli strappi dolorosissimi, e poi ci vorrà tutta la vita, per cercare di superarli, di accettarli, ma c'è un ma, che piano piano scoprirò. 1964, comincio a capire, che è proprio vero, che quando si chiude una porta, si potrebbe aprire un portone, e le porte di questa bella città del nord, per me, si sono spalancate, con qualche difficoltà di accettazione, da parte degli altri, ma con la mia felicità, nel vedere la bellezza di questa città, viva, vispa, piena di colori, certo mancava il mare, questo è un grosso deficit, se Milano avesse l'umere, eh, 1965, la scuola può essere un luogo di meraviglia, anche se la maestra è molto severa, 1966, siamo nei pieni anni 60, nei favolosi 60, ricordo un paio di pantaloni arancio, no, erano gialli, con una maglietta arancione, ho sempre amato questi colori, anche se secondo me, non mi stanno benissimo, ma ero talmente giovane, fresca, che mi stava bene tutto, e 1966, crescere appunto, può essere una cosa meravigliosa, ma, può fare anche un po' paura, per strada, mi richiamavano, mi dicevano delle cose, mica sempre belle, e a volte avevo paura, uscire da sola, 1967, ancora tra slochi, e sentirsi instabili, è brutto, e io in quel periodo, sono un brutto natroccolo, la rotondità dell'infanzia, la freschezza, dei primi anni, della diciamo, pre-adolescenza, se n'è andata, e io mi sento, né carne, né pesce, secca, con questi capelli neri, questi occhi troppo chiari, mi sento proprio brutta, un brutto natroccolo, che cigno, non ci diventa. 1968, anche le separazioni dolorose, possono lasciare spazio, a un pizzichino, un puntino, di felicità. In quegli anni, pensavo, o tornando da scuola, o tornando da una passeggiata, con le amiche, che a volte, dentro di me, una vocina cantava, e la vocina cantava, perché era felice, non sentivo le voci, tranquilli, però era come, ero io, che cantavo, dentro di me. E questa vocina, mi ha seguito, per tanti anni. 1969, ma ragazzi, e vai di minigonna, e vai di scarpe bianche, col tacco, di stivali bianchi, e vai di capello lungo, vai di occhiali alla John Lennon, mamma mia, che anni meravigliosi. E cosa mi ha insegnato la vita? Che la scuola, crescendo, diventa, un luogo di meraviglie, ma anche un luogo di amicizia, e di grandi emozioni. Leggere Dante, leggere i lirici greci, che emozione, quanti pianti, con le poesie di Saffo, quanti pianti, per la morte di Ettore, e per la morte di Achille, e per la morte di Patroclo. 1970, la vita mi ha insegnato, che ciò che si separa, si può poi ricongiungere, ma non si è mai sicuri. Papà torna ad essere il mio eroe. E quella vocina sta cantando. 1971, al liceo sono una studentessa decisamente brillante. e ho capito che la cultura rende in particolare una donna, ma non solo ovviamente, la rende libera, ma anche pericolosa. Stai attenta, mi dicevo, perché qualcuno ti detesterà per questo. 1972, buttarsi sullo studio aiuta. Mi ci buttavo come una pazza e studiavo un po' alla Leopardi, studio matto e disperatissimo. Io non ero la più brava, ma dovevo diventarla e in certe cose, in certi momenti, lo sono stata. ma non la prima della classe, ma brava, brava, quella che il professore restava incantato da come rispondevi, da come leggevi i versi, da come traducevi una versione, dal greco al latino, dal latino al greco, dall'italiano al latino, dal latino all'italiano. 1973, anno della maturità e dei primi amori, diciamo, delle prime cottarelle innocenti e comincio a pensare che l'amore potrebbe essere una cosa meravigliosa, l'amore sentimentale per il quale lottare e che ti può salvare. 1974, anno cardine, comincio ad affacciarmi fuori dalla famiglia, sento che bisogna fare le proprie scelte anche se hai il mondo contro. Io volevo andare all'università, mi sono state poste tante difficoltà, ai soldi, alla burocrazia, ma io ho tenuto duro, ci volevo andare e ci sono andata. 1975, l'incontro col mio amore, il carletto, se trovi la persona giusta, mi insegnò quell'anno la vita, buttati, seguire i sentimenti, è bello, va male, pazienza, va bene, che bello. Litigai anche con alcune amiche che facevano dei distinguo, ci vuole il dialogo, bisogna conoscersi, molto bene, ma cosa ti butti, ma sei pazza, ma lo conosci? No, ma mi sono buttata. 1976, anno di crisi per me, anno di depressione, anno di tristezza, non capivo dove stavo andando, non capivo cosa fare nella vita, ma da queste crisi, la vita mi ha insegnato, può venire anche fuori qualcosa di buono, l'avevo già un po' capito, lo capisco di più. 1977, 78, cominciamo ad accorpare, diventare autonomi è difficile, staccarsi dalla famiglia d'origine è difficile, se hai comunque alla faccia di tutto, sviluppato purtroppo per te, una dipendenza affettiva dalla tua famiglia d'origine, è difficile staccarsi, ma questa cosa va fatta, perché le cose miglioreranno, vivere per conto proprio, noi abbiamo scelto di sposarci, ma per noi era abbastanza indifferente, sapevamo però che volevamo vivere assieme, questo io lo sapevo, ne ero sicura, a dispetto di tutti e di quello che magari è stato criticato di noi come coppia, non importa, l'amore ti rende no forte, di più, io ero Ercole, ero l'Ercole dei sentimenti. 1979-1980, la famiglia te la costruisci tu, da quella di origine che resta, in alcuni casi felici, è un punto di riferimento per tutta la vita, in tanti altri casi ci sono alti e bassi, e questo è stato il mio, in altri casi purtroppo può essere qualcosa da cui rifugire, e se sentite che è così, fuggite. Ma non parlo solo di cose gravissime o di abusi, ok, ma proprio quando sentite che è tossica la situazione, via! La famiglia è quella che ti costruisci, è fatta dagli amici, dal tuo amore, dai tuoi amori, dai tuoi colleghi di lavoro, dai tuoi capi, quella è la tua famiglia, quando hai un problema ti puoi rivolgere a loro, ecco questa è la famiglia. 1980-81, è importante trovare un lavoro che ti consenta l'autonomia, la mia scelta di lavoro è stata fatta in questo senso, era un lavoro, diciamo, per essere un primo lavoro, ero molto giovane, era ben remunerato rispetto a tanti altri, e allora ho scelto questo, anche se aveva dei costi, in termini di impegno, in termini di fatica, in termini di assolutamente indispensabile ulteriore formazione, è stata una scelta coraggiosa, di cui ti sei pentita, Paola? Sì, spesso, ma ho tenuto duro, perché ormai quando una scelta è fatta, è fatta. si può tornare indietro, certamente, avrei potuto farlo, ma alla fine decidevo che i pro erano meno dei contro. 1982-83, la vita mi ha insegnato che non si smette mai di imparare, e quindi si può, ok, hai una laurea, ne puoi prendere un'altra, cosa che io ho fatto. ho inseguito un sogno, mi ero innamorata della psicologia, oltre che della letteratura, del cinema, che amavo già tantissimo, ho deciso di intraprendere un percorso formativo completo, non ho avuto sconti, non mi è stato abbonato a nessun esame, ma non importa, ho tenuto duro. 1984, a volte la vita ci pone degli stop, ci può dare delle mazzate, anche da queste si impara, la mazzata più atroce è la perdita di qualcuno, perché questa persona muore, in quell'anno lì morì mio papà, e anche altre persone, per me molto importanti, mi lasciarono. 1985-1986, la vita mi insegnò quell'anno, che il pezzo di carta serve, e come, conseguita la laurea in psicologia, sul lavoro le cose cambiarono, come si suol dire, da così a così, ero psicologa, a tutti gli effetti, nessuno poteva dire più niente. Sì, c'erano dei cavilli burocratici, che mi avrebbero potuto, in quegli anni, consentire di esercitare, facendo un esamino integrativo, no, io non faccio esamini integrativi, io ho fatto tutto il percorso, la supervisione, la scuola specializzazione, tutto, perché questo è un insegnamento, che mi è venuto da mio padre, non si molla, se una cosa la vuoi, combatti. 1987-88, non credere però, che quando vuoi, basta volerla una cosa fortemente, e la ottieni, eh no, cara mia, a volte ci vuole, un'ulteriore fatica, niente, ti viene risparmiato, sto bambino, non arrivava. 1989-1992, la cosa più bella, più sconvolgente, più difficile, ma se li volete, non ci rinunciate, è avere un figlio, biologico o meno, non è questo il problema, se li vuoi, ok, ma altrettanto, se non li vuoi, hai tutto il diritto, di non averli, rispetto, moltissimo, quelle persone, donne, uomini che siano, che non ne vogliono avere. Se li vuoi, invece, è una cosa bella, sconvolgente, il momento del parto, è un'emozione che non è esistita un'altra più forte nella mia vita, tutte e due, le nascite dei miei figli. Qui sono degli anni, invece, che li devo proprio accorpare, 1993-1998, la nostra vita è piena dell'attività con i bambini, è stato un momento felice, felicissimo, anni difficili, i lavori, i figli, cori di qui, cori di lì, anni pieni di visite dai pediatri, pieni anche di preoccupazioni, pieni di sollievo, ma pieni anche di gioia, pieni di piccoli viaggi, di risata, di sbaciucchiamenti, di annusare la loro pelle profumata, i loro capelli corposi, meravigliosi. E lì la vita mi ha insegnato che quello che ti atterrisce, poi, può essere fonte, non solo si chiude una porta e si apre un portone, ma può diventare una cosa meravigliosa, mi atterriva l'idea, cioè, la teoria di avere il figlio, sì, ma poi la pratica, mi atterriva l'idea, adesso a pensarci mi vergogno anche un po', ma ve la voglio dire, cioè, mi atterriva l'idea, sarà per sempre, pensavo, il legame coi figli è per sempre, tutte le sere gli dovrò preparare da mangiare, tutte le sere dovrò fargli il bagnetto, tutte le sere, sì, tutte le sere, ma alla fine diventa una routine meravigliosa che non vuoi, non vedi loro ritornare a casa per stare con loro. Duemila. Se non ti senti bene nella tua pelle, se sei in sovrappeso, ma non stai bene, fai qualcosa. E lì per me fu un anno di profonda svolta. 2001-2006 furono anni fondamentali che mi hanno insegnato che il passato può tornare. Come tornò la mia carissima zia e venne in quel di Milano, per sei anni l'ho avuta vicina e ho potuto amarla fino a che se n'è andata per sempre. e con mia mamma devo dire che dal 2006 in poi un rapporto che pensavi impossibile si può sempre modificare. Lei non stette bene e io ebbi anche la possibilità di aiutarla e iniziare a risanare quel rapporto sempre un po' conflittuale. 2007-2010 imparo che il lavoro può dare enorme soddisfazione ma anche una competitività sgradevole. Io non amo la competitività perché soprattutto sui luoghi di lavoro è qualcosa di negativo. Non è l'emulazione che ti stimola a fare meglio è proprio quella cosa brutta del tipo vivere gli altri come un ostacolo alla propria carriera alla propria soddisfazione professionale e purtroppo in quegli anni una situazione così fui vittima di una di queste situazioni e piano piano con difficoltà riuscì ad emergerne e diventare ed essere accettata anche come leader anche se io non ero un leader competitivo non ero un leader aggressivo era un leader affettivo e a volte veniva fraintesa l'affettività il piacere di lavorare insieme qualcuno lo fraintendeva come essere debole chi invece più meglio mi conosceva o conosceva le persone insomma un po' come me persone altamente sensibili capiva 2011 recuperare il rapporto con le persone importanti della tua vita aiuta poi ad affrontare i momenti difficili quando se ne vanno via per sempre e in quell'anno toccò alla mia mamma però in questo senso sono stata fortunata perché avemmo il tempo di dirci tutto quello che andava detto e quindi io mi sentivo pacificata 2012 quando hai perso a quel punto tutti e due i genitori ti senti davvero definitivamente una persona grande 2013 2014 ogni età ha i suoi lati positivi gli annetti cominciano a essere un po' tanti però si possono trovare lati positivi di saggezza di minore emotività di maggiore tranquillità di maggiore distacco che col tempo sono arrivati 2015 dai che ci siamo l'esperienza di vita ti rende più sicura e la vita va sempre in una direzione avanti ti sconsiglio di andare indietro 2016 2017 cominciano a essere un po' stanchina di un lavoro costante quotidiano tutto il giorno e magari anche i sabati e le domeniche qualche volta cominciano a essere un po' stanca 2018 libera dal lavoro quotidiano mi ammalo di una malattia abbastanza importante e ancora una volta imparo che la vita ti dà degli stop e ti devi fermare non farle eroe 2019 scopro la mia tenacia di fronte alla malattia ho combattuto si può essere sconfitti intendiamoci ho combattuto è andata bene e ho scoperto quanto sono orgogliosa appena il dolore mi dava un po' tregua uscivo facevo delle cose 2020 la vita ha messo me non solo me la nostra regione il nostro paese il pianeta intero di fronte a una sfida terribile a una prova durissima che ancora non ci molla 2021 ho la conferma come sospettavo che la tecnologia e i social possono essere possono diventare uno strumento formidabile di libertà di conoscenza di divertimento e anche di affettività perché no 2022 eccoci qua e che dire amici e amici chissà cosa ci riserva il futuro come diceva quella meravigliosa canzone lo scopriremo insieme vivendo o fate sempre quello che vi fa stare bene mi raccomando che se so che non fate quello che vi fa stare bene vengo lì vengo lì da voi fate quello che vi fa stare bene alla prossima ciao amici amici